buongiorno a tutti oggi siamo a caslano per mostrarvi questo tre locali siamo al primo piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo subito accolti da questo atrio d'ingresso immediatamente a sinistra la cucina una cucina composta di piano cottura in vetro ceramica lavabo forno lavastoviglie e frigorifero ed ecco a voi poi il soggiorno come potete vedere rimane molto ampio e abbiamo poi questa porta finestra che permette l'ingresso di molta luce e dall'accesso ad un balcone che vediamo poi in seguito proseguendo da questa parte entriamo nella zona notte abbiamo una prima stanza come potete vedere subito a sinistra un piccolo vano e poi il bagno un bagno composto di pc doccia specchiera e lavabo e attraverso questa porta possiamo accedere ad un'altra stanza come potete vedere l'ambiente rimane veramente luminoso e attraverso questa porta finestra possiamo accedere al balcone come potete notare un balcone molto ampio se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci allo 00 41 91 921 24 28 ti affitto 00 42 00 42